Musica Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Buonasera 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 a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. 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 allora vado qua metto qua e andiamo avanti parla con lui pure con cosmo viene qua dentro il direttore lo conosco bene no lui non viene questo sabato però tu ci dice vai la in ufficio voglio parlare con il nostro io non lo so voglio parlare con il nostro io sono lavoro con Mario non c'è niente 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 ma ne sono pronti non c'è niente a quello che si dice si è la mia Grazie a tutti 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 Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 3, 4, 3, 4, 2, 1 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. ok ok perché c'è uno qui, che qua non è un po' anche la trazione è un po' come si sa zici 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 il mio cugino e il mio cugino dov'è? ciao 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 buongiorno bene No, lui non viene questo sabato Però tu ci dici Vai la, in ufficio Voglio parlare con l'annestro Non lo so, non lo so Voglio parlare con l'annestro Io sono Dici, col lavoro con Mario Lui veniva Vai Mario Scusa bene Non è tutto pronto con la scuola Eeeh 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.